Anche hai capito l'incantesimo qual è? Accio mappamondo. Vabbè mappamondo perché è un mappamondo. Quindi se io vengo davanti a te con la bacchetta faccio accio cazzo. Ti faccio saltare il cazzo. So che tu vorresti che io ti scrivessi, ti scrivebbi, lo so che tu vorresti che io ti scrivebbi, capito? Quanto anni mi avrebbe dato? Quando io avevo 14 anni, mettiamo 14 anni, mia madre ce n'aveva 44? Mo' mi sono impappato eh. 31 io, 57 lei. Quindi sono 30, 40, 57, sono 26 anni di differenza. Ok? 26 anni di differenza. Quindi io 31, lei 57, sono 26 anni di differenza. Quindi dei miei 31 ne eleviamo 15, facciamo 14, 14 anni in meno. Bocchini, seghe, bomba a mano. Allora lei 57 meno 14 uguale, c'ha 43 anni. Ohhhh. Vieni che ho finito a mano o a quel posto ci vuoi io? No, nello cambio automatico. Metti N, da N passa a P, da P passa a G. Sì. Eh aspetta, spostami un po' capo alla sinistra e a destra qua. E non mi toccare, figlio, ma sei molto freddo. A folle sta, a folle. Metticela. Spostala, nanzi. Vai più avanti, non vedi che non va la manca. Metti P1, P1. 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 Eh, 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 è ciasuta, è ciasuta, è ciasuta. Questa pura. Mamma questa che bucchini mi facevano. Nice. Se mi arriva una ragazza e mi tocca il viso e sento questo profumo di mandarino, è finita. Se io sono sul divano con una ragazza e i piedi li profumano di mandarino, è finita. Se io, nel momento in cui mi avvicino in determinati posti, pochini, seghe, bomba a mano, per effettuare un'interrogazione orale e profuma di mandarino, è finita. Se io, nel venire, durante l'interrogazione orale, svolta da lei, dovesse dirmi, mmm, sa di castagne, è finita. Hey, that's pretty good. Sardegna non è sud, vesti di micia. 15 minutes later. Mannaggia la colonna di San Giovanni, mannaggia, mannaggia. Come cazzo fa ad essere? Come fa ad essere sud? Chi l'ha spostata? Chi ha spostato la Sardegna? Io me la ricordavo, me la ricordavo più sopra. No, 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 no. Occhio! Sta qua anche, qua, 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 qua. Temperatura! Eh, lui! Eh, lui! Eh, lui! Eh, ma pure con quella cosa, mannaggia. Mamma! Mamma! Wait a minute! Who are you? e poi lui per essere trattato capito ma aiuto castagna tu stai a me porta questo castagna passalo fai aiutare ma lascialo sta paralizzato ma che cazzo ha fatto ma che sta facendo sembra che sono il suo crembo ma che cazzo portami giù cartongesso è fatto ma tu stai a me cura se la pianta a cura di cronofilla stai a me fai no non mi sta portami pure a me lì dietro e come sono ordinato sopra sono ordinato anche da altre parti ma che s'ha fatto c'è prova 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 costruire l'indicolo PROVANA di pesce marzo avevo chissà naturale l'antantone a bar dove c'è mangiato quella? scubioscaline ah madonna ragazzi acqua cassata acqua cassata garganella non me la toglie nessuno lo farò per voi per voi faccio questo e altro grazie fallo come so? come so? come so? come so? come so? guardate come so? a fine del mondo ci vedremo ho t'ampastata bucca guardala da intra e sta la tira e sta la cammina ciao 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 è morto se mori a spiegare la fotocamera sua glitch eh non voglio morire puttana di merda ci sta allora qui c'è anche una rivista dove stanno tutte le porno star si chiama maghetta 2000 ma non tipo non li fa? si si tipo però è riporteriano ma tipo roba di bacchetta in culo cosa? roba di culo si si bacchetta in culo si fa di fare un bacchetta in culo un bacchetta in culo non avete soldi per potervi permettere una vacanza giù non vi preoccupate comprate il prodotto tipico di david house pasticciotti fatti in casa freschi morbidi croccanti allo stesso tempo ripieni di crema pasticcera fatti con le sue manine nella sua cucina punto esclamativo pasticciotto in chat per poterne ricevere un chilo a casa alla cifra di 150 euro later pronto ciao panno mi vedi? si aspetta attiva la fotocam si marioana cocaina eroina crack ciao tesoro come puoi vedere ho cucinato per te questa sera grazie amore anch'io ho una sorpresa per te ho comprato quei giochetti che tanto ci piacciono tesoro così mi vizi così mi mi fai diventare un animale sai cosa succede quando divento un animale? si mi fai impazzire questa sera sento che è la serata giusta per farlo sciocchina vai cambiati nel frattempo io metto tutto sul tavolo e apro una buona bottiglia di vino il vino bianco quello che mi fa tanto impazzire certo amore proprio quello ok vado tesoro sto arrivando quanto sei bella quanto sono stato fortunato quel giorno anche io tesoro tu hai le cure vabbè tu sarai full nooo sperando che se ne sono andate ne sono andate le non fai che ma 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 Grazie a tutti.